Taranto, durante i festeggiamenti per San Cataldo, l'arcivescovo Monsignor Filippo Santoro ha aperto le porte del santuario Madonna della Salute, oggetto di restauro ormai da decenni e che presto rivedrà la definitiva apertura al culto. In serata poi nel Duomo, la presentazione del nuovo quaderno Fragmenta sulla cripta della Cattedrale di San Cataldo di Augusto Ressa per le edizioni mandese. La seguita per Teledeon, Francesco Rossi. Nei giorni in cui ricorre la festa esterna di San Cataldo è importante recuperare la storia, le tradizioni, la cultura anche dei luoghi, in questo caso della cripta di San Cataldo. La cripta di San Cataldo è un luogo particolarissimo di questa grande fabbrica, molto probabilmente il nucleo più antico di questa struttura che ha avuto molte vicissitudini e presenta una stratificazione storica molto complessa. E' la parte bizantina nella chiesa che peraltro è caratterizzata anche dalla presenza di splendidi affreschi, pochi purtroppo rispetto a quanti sicuramente dovevano coprire le intere superfici. Però miracolatamente conservatisi e quindi noi possiamo ancora goderne. La cripta è una cripta bizantina, è il cosiddetto soccorpo della cattedrale, non nasce con tantissime pretese artistiche eppure nei secoli acquista un valore di luogo di culto, di preghiera e di bellezza nella sua semplicità e povertà. E' un luogo che sotto il livello del manto stradale, a contatto con il mare, quindi ha bisogno di continui lavori di ripristino dovuto all'insistenza dell'umidità persistente, ma la volontà di tanti comincia in realtà un percorso di attenzione sulla cripta del Duomo di San Cataldo, proprio perché si vuole adottare ogni angolo di questa cattedrale, la cui fabbrica come tutte le cattedrali millenarie è sempre aperta per recuperare, scoprire e valorizzare ogni angolo. In questa cripta è conservata l'immagine, l'affresco più antico del nostro amato patrono San Cataldo, è un'icona che ha quasi mille anni e quindi noi desideriamo riaccendere i fari in questo luogo in cui i tarantini hanno cominciato a venerare il santo Cataldo. Possiamo dire che Taranto riscopre il suo cuore, il cuore del Duomo stesso, quello da cui tutto è cominciato? Certamente, riscopre il cuore del Duomo, il Duomo, la più antica chiesa romanica di Puglia e di qui si è sviluppata la rinascita della città anche nell'altra fase dopo la venuta del santo e di qui si è messa in moto un'attività, un'industriosità, una capacità di non fermarsi agli allori del passato ma di rimboccarsi le maniche e di costruire. Oggi insieme con il recupero della cripta abbiamo pure lanciato un'altra cosa straordinaria, abbiamo fatto l'open day per la Madonna della Salute, un tempio straordinario che è simile alle basiliche romane, al Gesù di Roma tenuto dai gesuiti, fonte di cultura, di vita, di religiosità e la gente era meravigliata e così noi vogliamo proprio riprendere il passato, ricostruire un segno di ricostruzione della città vecchia dal punto di vista urbanistico ma soprattutto dal punto di vista umano.